Salve a tutti ragazzi e bentornati su Aladdin, la vendetta di Nazira E magari saltavi? E lo c'è, lo c'è, no! Perché non hai saltato, temente, ritardato Oh, e salta Non male che non era niente di mortale Sì Guardi, è incompetente Forza, andiamo qui adesso Ok, ok Yeah Beh Non è apparso Non è apparso Ok, vediamo di prenderla bene perché se la vado a smicciare non la posso più riprendere Nooo Non è assaltato Non è assaltato Eh, fammi fuori vai Veloce Mamma mia, fino a quanto ti aspetto Vediamo di non fare un altro Fail del genere perché io non ci sto Allegria Ah Grandioso Grandioso al quadrato Al cubo, anzi Parti sotto No, 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 qui bisogna fuggire, qui bisogna fuggire Oh, santo peribilo con quanta vita Con uno sputo di vita Uno sputino Ecco il colpo di grazia Cioè, se Forza Possiamo farcela Non è difficile Basta fare un salto Madonna, stavo per finire da solo così Sì, a capolo Eh, sì, vabbè, grandioso Ah Ok, ok Basti invertiti Bellissimo Che ha avuto la brillante idea di farlo in questo modo Ecco Ecco Bellissimo Bellissimo l'inizio Ma che cavolo No, 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 no Lì non l'ha colpito Lì non lo ha per niente colpito Ecco Grandioso Ha sbattuto il capo E vabbè, dai Ma che resta di checkpoint è? Ah Grazie Mort Che caspita è successo Mi ha deviato tutto in un colpo no 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 sì ho schippato tutto in un modo veloce ma chi se ne frega no poteva anche farcela vabbè ragazzuoli con questo direi che si può concludere E... alla prossima!